parti subito con me la sigla benvenuti ad un nuovo appuntamento del gp show podcast a guida giorgio pecorari quindi per ora ci siamo inventati questo titolo gp show con un'unica costante l'orario ora di pranzo ci fa piacere fare quattro chiacchiere parlare di un paio di temi che riteniamo interessanti rispondere a commenti che ci scrivete sotto i nostri video e quindi eccoci qua un paio di importanti comunicazioni innanzitutto per quanto riguarda i nostri clienti è in arrivo il nuovo magazine di piano finanziario celebriamo i 100.000 iscritti al canale vi ringraziamo per aver festeggiato con noi lunedì che abbiamo fatto questa diretta appunto per festeggiare i 100.000 iscritti al canale e il magazine è la seconda pubblicazione la prima è questa di settembre e in questa seconda pubblicazione abbiamo fatto ulteriori migliorie stiamo cercando di trasformare questo in un piccolo contenuto ad altissimo valore per i nostri clienti che li tiene anche aggiornati sulle iniziative che facciamo ne facciamo talmente tante che a volte ci rendiamo conto che i clienti non ci stanno dietro con tutte le comunicazioni quindi un contenuto cartaceo che spediamo tutti i mesi a casa i nostri clienti e quindi se ci segui se sei cliente sappi che tra un po lo riceverai prima di iniziare a entrare nel vivo della chiacchierata di oggi un'importante comunicazione vai regia bene come hai visto stiamo cercando nuovi tutor perché piano finanziario sta crescendo non solo di iscritti al canale youtube perché non so se si sa o se te ne sei reso conto se ci segui da poco ma è un'azienda di formazione di consulenza e quindi abbiamo deciso di cioè non abbiamo deciso stiamo crescendo di numeri e di organico e stiamo cercando dei tutor quindi persone che si occupino dei nostri clienti e li coinvolgano in un percorso di crescita e in ambito finanziario o di formazione o di consulenza quindi se ti interessa in descrizione trovi tutte le informazioni per poterti candidare bene allora la diretta di oggi ha un tema principale su cui vorrei fare qualche ragionamento insieme e poi risponderò a una serie di domande che ci avete inviato a altra comunicazione importantissima dimenticavo abbiamo lanciato gli abbonamenti al canale insomma per noi è un modo per dare priorità alle domande che riceviamo una marea di domande quando diciamo vogliamo rispondere alle domande in diretta bene ne riceviamo dalle 50 alle 100 difficile rispondere a tutti quindi abbiamo deciso facciamo un creiamo un abbonamento al canale chi ha dei temi urgenti che di cui vuole avere una risposta insomma il costo è assolutamente ridicolo però insomma così diamo più valore a chi può essere interessato e direi dalla settimana prossima ci organizziamo anche per rispondere al telefono un po come veramente nei programmi televisivi anni 90 dove chiama da casa il concorrente ok faremo una cosa simile ok quindi stiamo mettendo a posto dal punto di vista tecnico questo ci stiamo preparando per questa cosa ma sarà possibile chiamarci in diretta e fare quattro chiacchiere proprio in diretta e ovviamente opportunità che lasciamo agli abbonati se vuoi maggiore informazione trovi il link cioè trovi in basso nella pagina di youtube abbonati al canale bene entriamo nel vivo della discussione allora abbiamo intitolato questa diretta i giovani non vogliono comprare casa perché ho trovato un paio di articoli molto interessanti che per me ci aiutano a contestualizzare il momento storico che stiamo vivendo e a capire anche dei fenomeni sociali che si stanno sviluppando dal punto di vista dei giovani e della casa vediamo l'articolo allora guppis cosa sono e perché il mutuo non è più una priorità per gli under 30 per gli under 40 scusami allora torniamo su di me e intanto ti faccio vedere qual è l'articolo che ho trovato e che commenteremo ed è questo sul quotidiano nazionale dice guppis perché il mutuo non è una priorità per gli under 40 il nuovo trend del mercato nazionale internazionale che di recente si sta fermando anche nel bel paese allora i guppis guppis sarebbe l'acronimo di given up property cioè vuol dire persone che rinunciano ad acquistare un immobile perché l'immobile ha dei prezzi che sono fuori dalla propria portata fondamentalmente e gli studi secondo una recente ricerca citata dal magazine online business insider che tra l'altro citiamo spesso anche in altri video nel regno unito il 42 per cento degli under 40 non possiede un'abitazione non prevede di acquistarne una nei prossimi dieci anni non si tratta in gran parte dei casi di persone a basso reddito quindi non solo persone a basso reddito non la stanno comprando anzi tra loro più di uno su tre guadagna oltre 60 mila 60 mila sterline all'anno è proprio un discorso evidentemente di obiettivi di vita obiettivi finanziari e quindi noi che ci occupiamo di obiettivi finanziari io in prima persona anche una società immobiliare vend house insomma questi sono trend sono fenomeni che secondo me è importante avere chiari anche un altro studio menzionato dal daily mail conferma che solo il 22,5 per cento dei britannici tra i 25 e 34 anni possiede una casa di proprietà infine sulla base di un sondaggio condotto da zupla azienda britannica attiva nel settore della compravendita di immobili tipo immobiliare.it l'incremento del costo della vita che sta interessando tutta l'economia europea unito alla crescita dei tassi di interesse per accedere a un mutuo e ai prezzi sempre più elevati delle abilità delle abitazioni fa sì che circa il 50 per cento delle giovani generazioni sono in difficoltà nell'acquisto della prima casa quindi qual è cosa sta succedendo sta succedendo che tassi alti inflazione costi degli immobili inadeguati e poi in un altro video faremo un approfondimento sul perché non calano i prezzi degli immobili perché non calano scrivendo nei commenti e condivideremo le riflessioni in un prossimo video e questo fa sì che per molti giovani il prezzo degli immobili sia inarrivabile e quindi diventano gruppi ok quindi una categoria di persone che abbandonano il sogno di acquistare l'immobile e decidono di vivere in affetto ritratto dei gruppi quindi ecco allora fermarsi la categoria della zuppiera non capisco professionisti under 40 che hanno rinunciato all'acquisto della casa e non la considerano più uno status symbol come invece accadeva in passato rappresentano l'antitisi esatta degli iupis i dinamici professionisti urbani degli anni 80 90 vi ricordate il film iupis con jerry cala epico bene e al contrario dei giovani d'oggi bene che ecco gli iupis al contrario dei giovani d'oggi non avevano problemi ad acquistare un immobile i miei genitori hanno acquistato un immobile con un mutuo a 10 o 15 anni o forse lì in mezzo più o meno adesso un giovane deve fare un mutuo a 30 anni per acquistare un immobile quindi è il prezzo i tassi di interesse il potere d'acquisto che è calato fanno sì che è talmente lungo il tempo per comprare un immobile che molta gente dice non ce la faccio rimarrò in affitto oggi come dimostrata da una da un'altra ricerca sempre di business insider commissionata dall'associazione nazionale degli agenti immobiliari americana l'età media degli acquirenti di una prima casa è salita a 36 anni mentre la soluzione più adottata dai giovani ancora quella di prendere una casa in affitto da soli o condivisa con parenti amici così da poter dimezzare i costi in alternativa per i guppis rimane sempre valida la possibilità di rimanere a vivere sotto la casa dei genitori opzione preferita dal 14,4 per cento della popolazione allora questo è sicuramente sintomatico di un fenomeno di divario generazionale dal punto di vista della ricchezza cioè abbiamo giovani generazioni che non riescono ad emanciparsi dalla famiglia fanno più fatica ad uscire di casa non solo un problema italiano è un problema in italia è molto più marcato ma è un problema che si trova conferma anche in inghilterra anche negli stati uniti fondamentalmente c'è un profondo di una profonda differenza dal punto di vista della ricchezza per generazione a pari età la generazione dei baby boomer quindi dei miei genitori alla stessa età per dire a 40 anni aveva accumulato una ricchezza molto superiore direi più o meno due volte quella che è la ricchezza che ha accumulato un quarantenne della mia generazione questo fa sì che ci si può permettere meno cose a pari ricchezza qual è però il problema il problema è che chi ha in mano gli immobili chi è che vende un immobile chi non ha più bisogno chi è che non ne ha più bisogno di solito o chi lo eredita dai genitori e quindi era l'appartamento del nonno che è passato a miglior vita e adesso torna sul mercato più o meno così cioè l'immobile appunto perché è un bene durevole e non è un investimento come spieghiamo un video su due è qualcosa che quando uno non lo usa più perché il proprietario l'utilizzatore è passato a miglior vita passa a qualcun altro quindi di solito passa a livello medio da un anziano a un giovane a livello medio sociale ok il problema è che l'anziano a te le generazioni più più come dire baby boomers o la silent generation che sono i miei nonni e sono mediamente più patrimonializzati di quelli che comprano che invece con i tassi di interesse di oggi con potere d'acquisto ridotto da causa dell'inflazione e comunque una difficoltà generazionale anche ad avere un posto a tempo indeterminato sono quelli che dovrebbero comprare immobili e non ci riescono questo è il fenomeno non è solo un problema italiano cioè in italia tutto questo è amplificato ma è un problema generazionale di tutti i paesi sviluppati e come vediamo troviamo conferma anche in inghilterra io ho trovato molte fonti simili anche negli stati uniti la situazione in italia cresce l'interesse per le aste immobiliari vabbè ce lo chiedono un sacco di persone il tema delle aste ma il problema che all'aste difficilissimo comprare quello che cerchi e a un prezzo molto spesso per la mia esperienza c'è gente che paga immobili a un prezzo più alto di quello che è il prezzo di mercato quindi questo è attorno su di me questo è un fenomeno ok e allora ho trovato un paio di commenti interessanti che ci permettono di vedere delle opinioni contrastanti relativamente a questo fenomeno il primo è questo pago 350 euro di affitto e resto più che posso in affitto zero sbattimenti e tutte bollette incluse ma che accidenti me ne frega di comprare case indebitarmi per 30 anni allora sicuramente chi ha fatto questo commento ha una condizione ci ha trovato l'affitto della vita perché 350 euro con le spese incluse non è non ha specificato dov'è ma è sicuramente un costo incredibilmente basso ed è ovvio che a queste condizioni concordo ma chi te lo fa fare di indebitarti per 30 anni ovvio che ti deve andare bene quell'immobile lì e quella configurazione abitativa ma un altro commento sotto di angelo dice lo scienziato che sarei io quanto fa ridere leggere i propri insulti io ormai per fortuna che ho 40 anni ci rido sopra se avessi ci sono giovani che purtroppo sono vittima di questo genere di bullismo online e non la vivono bene come la vivo io lo scienziato non pensa che l'affitto va pagato e se lo fai per 30 anni la casa l'avresti comprata diamogli una cattedra in fufa gurologia allora cosa sta sbagliando angelo ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire acquistare un immobile in 30 anni cioè acquistarlo in 30 anni vuol dire che il guadagno dell'avere qualcosa il guadagno derivante dal risparmio arriva al trentesimo anno giusto cioè se io compro una cosa con un moto a 30 anni vuol dire che impago 30 anni impiego 30 anni a pagarla quindi vuol dire che il vantaggio di non avere l'affitto ce l'ho al 31esimo anno ammesso che in trent'anni io poi non abbia speso in interessi in costi accessori per l'immobile in molti in tutti quegli altri costi che vengono trascurati quando si fanno queste valutazioni ma che ci sono ci rendiamo conto che il ritorno dell'investimento che non è un investimento ma il ritorno del finanziario di questa decisione si è spostato talmente tanto avanti che tra 30 anni chi lo sa cosa succederà tra 30 anni cioè mi sembrano dei concetti che diamo per scontato che 30 anni tutti sappia c'è tra 30 anni in italia ci saranno 45 milioni di abitanti cioè avremo perso 15 milioni di abitanti nei prossimi 30 anni quindi pensare di fare delle valutazioni così di lungo periodo su una cosa che non si sposta come l'immobile che è vittime è come dire è soggetto a dinamiche locali città che si spopolano città che si ripopolano quartieri che possono diventare da belli a brutti in un lampo condomini che possono fare la stessa evoluzione in un lampo perché diventano insomma vengono malpopolati cioè ci rendiamo conto che un rendimento un ritorno dell'investimento a 30 anni è talmente in là che è inarrivabile cioè per me sono concetti talmente banali che però qualcuno dice sì ma al trentesimo anno smetti di hai un vantaggio finanziario sì ma cioè tutti i rendimenti ecco questo trovo grottesco quando si parla di investimenti tutti vogliono il ritorno dell'investimento dai mercati finanziari alla fine dell'anno sì ma mancano due mesi è ma mancano due mesi alla fine dell'anno sì ma io voglio essere certo di guadagnare entro la fine dell'anno quindi tutti vogliono la certezza del rendimento nel breve periodo quando si parla di acquistare una casa tutti accettano che il ritorno dell'investimento possa essere a 30 anni e purtroppo dovremmo essere razionali e usare lo stesso non avere due pesi due misure ma usare la stessa metrica di valutazione per qualunque tipo di decisione finanziaria quindi uguale il tema della casa non può tornare l'investimento in 30 anni se premesso che non si tratta di un investimento ma di un guadagno che potresti avere finanziario derivante da risparmiare l'affitto deve arrivare in 10 anni 15 anni oltre 20 per me comincia essere un gioco che è molto come dire bisogna fare valutazioni molto approfondite se portarlo avanti o meno quindi attenzione perché queste non sono solo opinioni mie ma i dati lo confermano questo fenomeno è talmente questa mancata convenienza dell'acquisto si sta spostando cioè è talmente consolidata e le difficoltà di acquisto sono tali che come vediamo da questo articolo fanno sì che molte persone abbiano deciso di non comprare più e semplicemente di vivere in affitto fai queste valutazioni con cognizione di causa prima di decidere di acquistare un immobile se vuoi maggiori informazioni ci contatti e decidiamo insieme di fare un progetto per aiutarti a fare consapevolmente l'acquisto della prima casa bene a dimenticavo notizia di questa settimana la mettiamo così a completamento brunette no è nadef quindi il dati stat che per quanto riguarda il decreto economia finanza in uscita adesso giusto per dire che gli stipendi odierni sono più bassi di 14 anni fa quindi per tutti quelli che sono positivi sulla crescita costante del valore degli immobili se non aumentano i redditi è impossibile che aumentino che aumenti il prezzo degli immobili quindi attenzione perché tra il dire il fare c'è di mezzo il mare come diceva non mi ricordo chi bene prossima domanda che ci avete inviato avete lasciato sotto i commenti dei video allora trading il trading funziona veramente allora no cioè definiamo meglio il trading che trovi online non può funzionare veramente perché se funzionasse veramente quello che ti vende l'opportunità di guadagnare col trading online lo farebbe in prima persona no cioè farebbe il gestore di capitali quindi è impossibile che tu online possa trovare una soluzione efficace per migliorare con il tuo trading punto a capo ok questo non vuol dire che non si possa guadagnare col trading ma la soluzione non la puoi trovare online perché online trovi un venditore di corsi di trading non trovi un vero trader un vero trader c'è una persona profittevole sui mercati non ha l'obiettivo di avere visibilità non fa video su youtube non fa instagram non fai video dalla lamborghini chi è profittevole nel mondo dell'investimento del trading e vuole fare carriera vuole crescere in questo mondo va a gestire dei capitali ok quindi usa dei canali diversi per crescere a livello professionale va da un gestore gli fa vedere il suo track record da un fondo gli fa vedere il suo track record quindi i rendimenti storici che ha generato forti anche di una certificazione di questi rendimenti e dice guarda che bei rendimenti che ho generato in passato se mi dai 20 milioni gestisco del patrimonio per te ok giusto per iper semplificare avrai visto il film la grande scommessa bene non so se sai la storia di michael burry ma michael burry è nato così ok michael burry il famoso investitore che nel 2008 ha speculato contro i moti subprime nel 2002 2003 era un ragazzino che faceva medicina storia incredibile leggi il libro la grande scommessa che lo spiega bene e faceva medicina però lo faceva un po per come dire non era particolarmente appassionato in compenso era molto appassionato di mercati finanziari aveva un blog in cui parlava delle sue azioni delle azioni che lui stava studiando e che riteneva potessero avere un grande potenziale di crescita per caso viene scoperto da joel green blatt che è un famosissimo investitore che con un approccio value che vede che questo ragazzo trovato online su un blog è una storia incredibile aveva delle intuizioni notevoli e piano piano gli affida dei soldi da gestire e alla fine arriva a dargli in gestione non so quante centinaia di migliaia di dollari che era il patrimonio di shion capital che era gestito da michael burry è stato gestito a partire dal 2005 in poi ok quindi il vero trader il vero investitore profittevole ma soprattutto speculatore profittevole non lo trovi online lo trovi nei canali giusti abbiamo perso la camera aciderboli si è spenta ma funziona tutto allora mi sia solo spenta questa bene mi era venuto perfetto meglio così sia solo spento questo schermo ma poi lo taglieremo dopo bene quindi altra considerazione chi è che trovi invece online online trovi chi vende corsi di trading ok e allora dobbiamo guardare queste statistiche perché quando c'è qualcuno che ti vende dei corsi di trading ti illude il fatto del fatto che il trading sia qualcosa facilmente come dire perseguibile e alla portata di tutti il trend il 90 per cento dei trader perde soldi queste sono le statistiche ok c'è una regola detta regola del 90 il 90 per cento dei trader perde il 90 per cento dei soldi in 90 giorni perché perché succede succede perché c'è un grosso c'è una grossa sottostima della complessità di questo mondo tutti pensano che si possa fare 15 minuti di trading al giorno vivere comodamente sotto una palma o dire così in pausa pranzo faccio un attimo di trading aspetta che sono libero apro un attimo il cellulare faccio due o tre operazioni di trading e diventa profittevole sì ciao proprio ciaone cioè esso è solo il mercato più difficile del mondo in cui confrontarsi dove dall'altra parte ai degli hedge fund ai degli speculatori che hanno un team di mille analisti che che fa e permette loro di fare analisi molto più dettagliate non molto più dettagliate un milione di volte più dettagliate delle tue quindi è un gioco difficile le persone perdono soldi perché sottostimano la complessità di questo gioco e c'è un detto che quando giochi a poker e non sai chi è il pollo il pollo sei tu quindi non fare trading e soprattutto non seguire chi ne parla online prossima domanda acquisto versus affitto casa un paio di commenti molto interessanti che si collegano gli uni con gli altri ringrazio il team di piano finanziario che fa che crea tutti questi contenuti mi danno l'opportunità di fare una diretta veramente all'ultimo minuto ok ciao giorgio vorrei tornare sul tema dell'acquisto della prima casa faccio una domanda ma decidendo di investire in altri asset quindi questa persona dice io non investo nella casa cioè non compro la prima casa mi tengo la liquidità e ci compro cioè rimango in affitto ma con questa liquidità magari faccio un investimento in un non lo so in un portafoglio di titoli se adotto questa strategia non mi espongo al rischio di un mercato degli affitti da cui non si può fare edging se non appunto con l'acquisto della casa cioè in altre parole dice se io rimango in affitto non mi espongo al rischio di rimanere in affitto e quindi che magari l'affitto possa aumentare e quindi come faccio io se l'affitto aumenta è una cosa che non controllo invece se compro l'immobile so che devo pagare la rata del mutuo quella è una montare fisso quindi ho una protezione da variabili impazzite innanzitutto dipende da che finanziamento hai fatto tutti quelli che hanno fatto il mutuo tasso variabile questa protezione non ce l'hanno ma quello che non è chiaro alla maggior parte delle persone e che legge ce l'hai assolutamente ed è cambiare immobile ok cioè nessuno ti obbliga a rimanere lì tutta la vita primo secondo nessuno ti impedisce di negoziare con il proprietario delle migliorie all'immobile ok a fronte di un cambio di come dire tutto oggetto di negoziazione quindi uno potrebbe dire guarda va bene mi vuoi aumentare il il come dire il l'affitto vediamo i dati di mercato poi ci mettiamo lì a un tavolo mi dici quanto vuoi magari a un tavolo ti dico quanto ti chiedo io ok ciò cosa ti chiedo in cambio magari in cambio c'è che ok passiamo da 650 700 euro al mese però mi rifai il bagno per dire è tutto oggetto di negoziazione in questo ufficio noi siamo in affitto ma io ho negoziato delle condizioni che ritengo vantaggiose quantomeno c'è stato un accordo col proprietario quindi è tutto negoziabile soprattutto se non mi trovassi bene o se trovassi un'alternativa ad un prezzo più basso è ovvio che ormai c'è una struttura già spostare solo questo studio vorrebbe dire diverse settimane di trasloco e di complessità però nessuno me lo impedisce ok è una scelta quindi legging a cui fare riferimento cioè la protezione da un aumento dei tassi da un aumento dell'affitto si c'è ed è il negoziare molto semplicemente nella vita dobbiamo negoziare non è che se facciamo un finanziamento non negoziamo più sì o meglio non negoziamo finché va bene poi se abbiamo dei problemi a ripagare il finanziamento andremo a parlare con la banca quindi il tema è che si esce dalla complessità parlando ok infatti la domanda continua con se domani la domanda cresce esponenzialmente di immobili dopo facciamo qualche considerazione io rischio di non poter sopportare la crescita andare in default non è ben chiaro cosa intende per default in altre parole cioè rendiamoci anche conto di quello che dicevamo prima cioè siamo in un paese che si sta deindustrializzando e che ha una demografia calante vi garantisco che col passare del tempo si liberano immobili invece che occuparsene cioè non c'è la demografia per avere per utilizzare tutti gli immobili che ci sono a disposizione quindi la logica dell'affitto per quanto ovviamente non ci sia stiamo trascurando totalmente la componente emotiva associata all'immobile ma da un'analisi puramente finanziaria cioè l'offerta di immobili in affitto non può che aumentare perché siamo destinati a calare a livello italiano poi dipende da zona a zona e certe zone come milano è indiscutibile che abbiano un mercato degli affitti folle però milano è un'eccezione l'italia sta vivendo questo fenomeno e io parlo di l'italia a livello medio quindi ci metto modena tra le città medie se guardiamo il meridione si sta si sta totalmente spopolando leggevo i dati della basilicata io non so tra vent'anni quante persone abiteranno in basilicata ma è una regione che sta letteralmente spopolando da un lato abbiamo questi questi commenti dall'altro questo qui a bello ma avere un tetto sulla testa da cui quando uno finisce di pagare nessuno ha ancora capito quanto tempo ci vorrà pagare l'immobile non ti possono cacciare sarebbe un investimento discutibile forse indiscutibile sta dicendo interessante mi dica di più signor capucchione consigliato da youtube perché purtroppo certi video diventano virali e quindi ovviamente non vado solo davanti al pubblico che mi conosce ma andiamo anche davanti a gugas che mi chiama capucchione comunque qual è il concetto è che se torno un po le considerazioni di prima se voglio che sia una decisione consapevole e che sia qualcosa che possa in qualche modo definirsi un investimento non tanto per la rivalutazione ma per quanto almeno risparmio l'affitto devo avere chiaro in quanto tempo me lo ripago e oltre un certo periodo temporale non ha più senso se me lo ripagassi in 50 anni non avrebbe senso se me lo ripagassi in due anni avrebbe assolutamente senso quindi dov'è la linea di demarcazione tra quando ha senso comprare una cosa e quando ha senso affittarla è strettamente personale perché dipende da qual è la tua migliore alternativa nel fare rivalutare il capitale ma è indiscutibile che quando siamo a un ritorno dell'investimento a 25 30 anni non ha quasi più senso comprare se la vi dura ma dura d'accettare ma è così domanda sulla pensione di bombazza allora grazie dei conti dei commenti una domanda che potrebbe essere utile ai miei coetanei coetanei ho 32 anni due bambini sposato a nove anni 30 mila euro di reddito netto ho deciso di risparmiare comprare a casa nel 2021 e ristrutturarla senza fare ricorsa al credito 100 mila euro di immobile 40 mila euro di lavori quindi l'ha pagata tutta in contanti cioè contanti senza mutuo ovviamente i risparmi sono limitatissimi in questa fase e gli investimenti sono sicuramente una parte molto trascurabile del patrimonio secondo te quelli che si trovano nella mia situazione sono in linea con la tabella di marcia per poter integrare la pensione siamo in anticipo oppure ritardo il problema è che tu non mai detto quanto hai già risparmiato di quanto è l'investimento e una cosa è certa hai messo davanti un hai messo davanti all'investimento previdenziale e agli altri investimenti per gli altri obiettivi finanziari che potresti avere hai messo davanti una spesa improduttiva e l'acquisto della casa quindi purtroppo questo è un tema che noi affrontiamo quotidianamente informazione quando c'è da accumulare patrimonio c'è un tema di priorità cosa metto come priorità numero uno tra le mie spese bisogna stare molto attenti perché quando metto prima la casa mi precludo la possibilità di avere un'alternativa perché se magari faccio un finanziamento e questo mi prende il 30 per cento del reddito è difficile poi risparmiare questo mi prende il 30 per cento dello stipendio più di così non posso risparmiare e allora c'è gente che ci commenta ma non riesco a risparmiare perché ho un mutuo che è già importante come peso è per questo che va valutato prima di farlo al mutuo non ci possiamo pensare dopo va fatto prima prima devo verificare la sostenibilità dell'acquisto se ci riesci da solo bravo se non ci riesci ci contatti quindi purtroppo bombazano non ha una risposta a questa domanda perché non mi hai detto quanto patrimonio hai accumulato da parte hai accumulato per l'obiettivo pensionistico vedo come rischio il fatto che hai messo come priorità e ci sta per la casa però il rischio è questo il rischio è che la priorità ti precluda la possibilità di investire per non so quanto qualche altro quanto altro tempo su quello che è l'obiettivo che hai in mente che però adesso vedi che è un tema che ti preoccupa o magari che ti vuoi dire ti si è accesa la lampadina e ti stai ponendo le domande purtroppo la domanda andava posta prima di fare l'acquisto se ce la fai da sola a correggere questa situazione bene buon per te se no ci contatti ti diamo una mano domanda affitti brevi quanto tempo abbiamo perché alle due la riunione con i tutor di piano finanziario come ricordava l'inizio della diretta se vuoi unirti al team di piano finanziario stiamo cercando nuovi tutor bene affitti brevi buonasera mi presento sono un ragazzo di 32 anni vivo a parma e la mia io e la mia compagna stiamo pensando di comprare un appartamento a parma per fare affitti brevi io stavo pensando di comprare un trilocale da affittare le stanze la mia paura più grande è avere molti mesi vuoti senza riuscire ad affittare quindi non riuscire a ripagare il mutuo che farò avevo intenzione di cercare qualcuno che me lo gestisca ma al momento ho trovato solo un'agenzia che però affitterebbe solo tutto l'appartamento sempre con affitti brevi ma non le stanze è ovviamente perché sai che lavoro c'è dietro non so se leggerà mai questo messaggio invece lo leggiamo lo leggiamo voi mandateci i messaggi o commenti e il team li seleziona e me li prepara allora affitti brevi è un mestiere chiaro e ti deve piacere già solo il fatto che tu stai pensando di delegare qualcuno secondo me io non so se lo farei ti deve piacere l'idea di starci dietro puoi delegare qualcuno quando ne hai tre di appartamenti adesso tra l'altro dipende poi da zona zona perché hanno messo dei vincoli a livello comunale e non è detto che tu possa come persona fisica avere tre appartamenti dipende da regione a regione però ti deve piacere e ti deve devi sposare l'idea di fare il piccolo albergatore perché questo stai diventando non è più un investimento immobiliare è un'attività da albergatore piccola individuale con magari anche delle agevolazioni fiscali se rimani nel piccolo ma ti deve piacere a me non piace non lo faccio mi è del rendimento ok perché il tema è poi dopo dobbiamo capire il rendimento il rendimento non è solo quello dell'investimento immobiliare dovremmo anche capire quanto rende al costo dei al netto dei costi perché se c'è del tempo manuale non è più un investimento cioè se c'è del tempo operativo tuo o di qualcun altro dobbiamo capire quanto rende al netto di questo tempo ok e qua già cadono cade un business plan su due e si considera che il tempo valga zero no il tempo a un costo e gli dobbiamo andare un costo perché sennò confrontiamo mele compere confrontiamo un rendimento del 5 per cento di un'obbligazione che compro e non ci faccio niente per tre anni con il 7 per cento o 9 di una cosa a cui devo dedicare 10 ore al mese il tempo ha un costo e va messo nel business plan e qui non ho una risposta cioè non è non ci sono troppi elementi per poter dare una risposta diciamo che devi fare un business plan un conto economico ok considerando che ovviamente non puoi considerare un tasso di occupazione al cento per cento nessuno può avere il cento per cento non so di non hai detto in che anno hai detto che sei di parma parma penso che possa essere anche una buona zona sia dal punto di vista lavorativo che turistico non so che tasso di si chiama vacancy rate cioè il tasso di occupazione posso avere a parma stai molto cauto se non conosci dei numeri chiedi a qualcuno se ti riesce a dare qualche indicazione il conto economico deve stare in piedi considerando il tempo appunto cioè il costo del tempo di chi ci starà dietro tu o di qualcun altro è un tasso di occupazione che non sia al cento per cento e poi ovviamente deve verificare la sostenibilità del finanziamento ok quindi ci deve essere del margine perché è un'attività imprenditoriale non è che puoi avere non so la rata del mutuo 700 euro e ti ne bastano 800 per stare in piedi no deve esserci un bel margine deve fare un numero a caso non lo so dovrei valutare ma due o tre volte il finanziamento come stima realistica di rendita ok quindi fai queste valutazioni e poi facci sapere come sta andando quanto tempo abbiamo no questa la risponderemo la volta prossima ti ricordo che se hai delle domande scrivicele daremo priorità alle domande di chi è abbonato al canale perché come vedi io cerco di fare due diretta settimana però oggi sono arrivato un po più lungo del previsto alle due un appuntamento quindi non riesco a dilungarmi troppo se ti interessa farci una domanda vuoi una risposta abbonate al canale anche solo per un mese insomma per poter per poter rispondere a questa domanda poi ti coinvolgeremo in diretta con le prossime nelle prossime dirette perché stiamo sistemando anche la parte tecnica vi ricordo che abbiamo lanciato il canale di mentalità lo trovate in descrizione il link un nuovo canale facciamo vedere dietro le quinte cosa c'è qua dietro ad esempio te lo sei mai chiesto cosa c'è dietro questa porta quanta gente ci lavora in piano finanziario quanta gente si lavora in vend house bene canale mentalità e impresa perché crediamo l'impresa nella nell'imprenditoria e vogliamo fare vedere il nostro percorso condividere il nostro il mio percorso che ovviamente fatto di lavoro grandi risultati grande fatica grande determinazione e ci piace mi piace in prima persona parlarne in un canale dedicato che non parlare di mercati ma parlerà di business imprenditoria mentalità miglioramento personale con questo è tutto ci vediamo lunedì direi alla prossima diretta del gp show ti saluto ciao buon weekend ciao